Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video spiego come risolvere il problema riguardo al controller sul Dragon's Dog ma tu ovviamente se riscontrate problemi che non si avvia oppure non funziona sul gioco quindi in questo caso dobbiamo prima capire se il controller è collegato al 100% al PC e se è collegato e non funziona vuol dire che c'ha dei vecchi driver che dobbiamo aggiornare quindi in questo caso in descrizione ti ho lasciato vari link che ti porteranno sulla pagina per il controller della Xbox se stai usando un controller wireless per Xbox oppure un aggiornamento del firmware del controller della Playstation quindi in questo caso andiamo prima a scaricare così il programma per la Playstation vai a scaricare così il programma, questo è il setup ed eccolo qua una volta installato non ti resta che aprire il programma ovviamente funziona solamente per i cavi USB se in questo caso è connesso tramite cavo USB ti uscirà direttamente qui ovviamente io ho un controller wireless quindi non posso farti vedere la configurazione su questo programma però puoi sempre provare tu a farlo e vedere cosa ti esce quindi il link in descrizione sta qui invece per quelli per il controller della Xbox e riguardo invece al controller wireless per Xbox ovviamente se io adesso vado un attimo a collegare così il mio controller vado a connettere il controller wireless lo avvio andiamo direttamente su gestione dispositivi ed eccolo qua periferiche Xbox 360 ovviamente ci clicchiamo sopra, tasto destro sopra o possiamo fare direttamente disinstalla il dispositivo e poi una volta fatto possiamo direttamente collegare di nuovo la chiavetta oppure il cavo e vedere se si installa automaticamente dopo il riavvio del sistema possiamo fare direttamente aggiorna driver quindi cerca i driver nel computer scegli da un elenco di driver disponibili nel computer ed eccolo qua e faccio avanti installazione dei driver in corso se in questo caso avete altri problemi ad aggiornare così il controller c'è il programma che si chiama driver easy sempre in descrizione che ti ho lasciato il programma con la licenza gratuita ovviamente ci sono gli altri piani e c'è anche il video in alto a destra che puoi vedere su come aggiornare tutti i driver del computer qua è così la scansione e andiamo direttamente su aggiorna scendiamo fino a giù fino a trovare se c'è il driver per il controller ovviamente ti faccio un esempio su come aggiornare così il controller quindi facciamo fin da che questo è il controller quindi ti faccio un esempio vado su aggiorna crea manualmente faccio continua scarica così l'aggiornamento subito quindi installa manualmente faccio continua e ti uscirà così la cartella una volta uscita così la cartella vai su copia il percorso file della cartella questo qua fai copia solamente un esempio andiamo ora qui dobbiamo riavviare il computer lo riavvio più tardi tasto destro sopra aggiorna driver cerca il driver nel computer ed eccolo qua tu copia quel percorso file della cartella che ti ha dato driver easy e lo incoli direttamente qui e poi aggiornare il driver del tuo controller e fare avanti se non dovesse funzionare andiamo direttamente su configura dispositivi di gioco usb il controller qui è collegato usb controller ecco che si muove il più qua come puoi vedere l'asse x e y si muovono rotazione il controller funziona faccio ok vado su avanzate periferiche così per esempio se qui è connesso il controller però sulla periferica preferita non c'è nessun controller inserito tu vai a inserire così il tuo controller e fai ok una volta fatto andiamo direttamente su steam quindi nella modalità big picture vai direttamente su visualizza modalità big picture ed eccolo qua andiamo direttamente sul menu vai su impostazioni controller ed eccolo qua questa è la pagina per il controller ovviamente se vuoi giocare a dragon's dogma 2 ti consiglio sempre di avviarlo direttamente sulla modalità big picture questa è l'interfaccia del controller quindi il nome del controller è inserito il mio prova gli input del dispositivo quindi inizia la prova controller si muove oppure le frecce direzionali queste qua i tasti si muovono y, x, b, a tasto centrale e gli altri due supporto per i controller playstation come puoi vedere non attivo tu lo attivi abilità steam input per i controller switch pro se usi il controller della switch su pc lo attivi questo no abilità steam input per i controller xbox e basta layout del desktop modifica questo è il mio layout quindi mostra layout ed eccolo qua è questo modifica layout e layout inseriti e qui puoi scaricare i layout per il tuo controller su steam layout della comunità ed eccoli qua ovviamente i layout che uso io è direttamente quello predefinito che quando collego così il mio controller al pc mi esce direttamente il layout del controller e uso questo qua ovviamente se non dovesse funzionare andiamo direttamente su gestione dispositivi di nuovo periferiche tasto destro sopra disabilita così il dispositivo disabiliti così il dispositivo del controller e poi fai il riavvio del sistema riavviare il computer ora se hai altri problemi sul controller fammelo sapere commenta sotto il video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao